Se io mi trovo persone che comunque si cambiano, espletano le varie funzioni fisiologiche, così tranquillamente davanti agli occhi di tutti ovviamente andiamo un po' a ledere quei diritti e quella civiltà che dovrebbero essere di base e obbligatori per tutti. Chi ha un canale preferenziale magari può riuscire a comunicare meglio queste necessità, questo obbligo di dover sottostare a delle regole, a dei principi che devono essere necessariamente uguali per tutti. Questo è l'appello lanciato dall'Associazione Amici del Coro e del Pionta rivolto alle realtà che si occupano di accoglienza per migranti e richiedenti asilo. Un appello che arriva a seguito di alcuni episodi spiacevoli che si sarebbero verificati proprio all'interno del Parco del Pionta. Nel momento in cui io mi trovo quel viale là, completamente occupato da persone che comunque bivaccano, lo usano in modo improprio, tralasciando poi il discorso spaccio o altre cose che qui si va ancora nel discorso dell'illegalità e quindi una cosa ben più compressa e ben più grave. Ma diciamo che quella è un po' l'anticamera perché ovviamente queste persone che si trovano così danno tutta l'impressione di essere persone allo sbando, che non sanno dove andare. Chiaramente trovando situazioni di questo genere non tutti hanno voglia di trovarsi a discutere per una cosa semplice, come dire a una persona di non usare un albero come un bagno e quindi molti preferiscono andare da un'altra parte. Ma in realtà le cose sono state fatte, i progetti sono stati fatti, ce ne sono molti altri in atto e quindi è necessario che comunque non ci siano degli spazi che praticamente sono del primo che arriva e se ne occupa con prepotenza. Sono auspicabili più controlli? I controlli sì, ma più che controlli io auspicherei una certezza della pena perché di fatto se fossero andati a buon fine tutti i controlli che hanno prodotto arresti, probabilmente questo parco sarebbe pulito.